Oltre 16 milioni di investimenti sono pronti per andare in gara d'appalto. Il ponte di Castelnuovo, le opere di adeguamento della strada provinciale 150 e il completamento della pista ciclopedonale. Appaltato finalmente il ponte di Campodino, ci sono 26 interventi post alluvione in fase di appalto o appena terminati, 35 invece le opere di progettazione avanzata. Interventi appunto tanto attesi dalle amministrazioni locali, 33 milioni di euro messi in circolazione tra rimborsi dati ai comuni e interventi su aste viare e su aste fluviali. Importanti interventi di sistemazione di frane, di tratti di collegamento tra paesi, mi riferisco ai ponti, il ponte di Campodino, ma tanti altri interventi su situazioni veramente pericolose del nostro territorio. Ma questo darà un impulso importante anche al tessuto economico perché ci saranno tante imprese della nostra provincia che lavoreranno e quindi insomma il compito nostro è stato quello di accelerare il più possibile questi interventi e mettere in circolo queste risorse. Oltre a questo stiamo ripetendo ulteriori somme a disposizione, mi riferisco alle economie dei piani triennali dell'Opera Pubblica di carattere regionale per cui nelle prossime settimane avremo altre 600-700 mila euro da mettere nella manutenzione delle strade. Quali saranno i tempi ad esempio per il ripristino del ponte di Campodino? I tempi credo nel giro di 4-5 mesi dovremmo esserci nel... Io adesso preferisco sempre non dire dei tempi precisi perché poi la gara è stata espletata quindi bisognerà giudicarla e poi insomma ci sono termini burocratici però le tempistiche di lavoro sono queste. Mi piace sottolineare che non siamo impegnati soltanto all'utilizzo dei fondi per l'alluvione ma anche su opere strategiche. Il discorso del back to cost per cui c'è un progetto di 7 milioni e mezzo di euro che interessa i comuni di Silvi, Pineto e Roseto e il discorso del ponte di Castelnuovo e interventi importanti della remodulazione sul comune di Roseto dei fondi sull'SSC 150.